Rilanciare e valorizzare la riserva naturale di Ponte Buriano e La Penna. A chiederlo sono state la provincia di Arezzo, il comune Aretino, la fondazione Arezzo in Tour e il comitato alla Valle delle Piagge, che al termine dell'incontro che si è svolto presso il palazzo della provincia hanno lanciato un appello congiunto alla regione toscana, invitata alla riunione in quanto proprietaria dell'area ma che non ha mandato nessuno in rappresentanza. A intenzione di questa amministrazione provinciale, assieme agli enti e alle associazioni, ha dichiarato Silvia Chiassai-Martini dare nuova vita ad un luogo di grande attrattiva turistica e di grande valore storico e naturalistico. Nonostante la provincia non abbia più competenze, prosegue, si sta attivando con ogni mezzo per il rilancio dell'area e ha deciso adesso di mettere anche a disposizione un battello elettrico. Chiedo per questo anche alla regione, l'ente preposto, che il tratto di Arno in questione sia navigabile per sfruttare ogni possibilità di attrazione turistica. L'assessore Marcello Comanducci ha poi ribadito quanto sia necessario definire ruoli urgentemente. Chiedo un'attenzione maggiore sia in termini economici che di promozione viva, nonché di partecipazione da parte della regione per il rilancio dell'area, essendo presenti anche molte associazioni private e volontari che di fatto hanno salvato quest'area e la tengono pulita. Mi aspetto adesso che ci sia un segno concreto anche da parte della regione. Il Comitato La Valle delle Piagge ha infine annunciato che nel mese di maggio è in programma un'iniziativa per un primo rilancio dell'area con giornate dedicate.